musica musica io sono del posto giusto per golelli vai Lui vai Lui in centro musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facciamo... Allora, dopo il salbuccio... E io faccio un po' corazzo. Io faccio un po' corazzo. Nella cosa. Ci sarà un motivo per il momento carico. Va bene. Isa, ci sei nella mia squadra? Va bene. Compro tutti questi qua, sincero. Compro tutti questi qua. E che serata... Va bene, va bene. Faccio il fuoco. Io magari non so niente. Chi è? Un camminante. Un camminante di serata. Allora, come posso... Quante c'è nuove? Chi ha il caggetto? Mi ha scatto che avevamo il 9. Allora, io mi posso... No, quando dire, quando pare va benissimo. Lo c'è... Lo c'è... Lo c'è... Lo c'è con l'ombra e il nero. Vabbè, poi ci andiamo a Leo. Lo c'è... Lo c'è... Lo c'è... Lo c'è... A Leo. Leo. Mi sei l'anno prossimo? Sì. Stiamo... Lo c'è... Lo c'è... Lo c'è...